che sta battendo tutti, i francesi, i belgi, gli olandesi, gli spagnoli, sta vincendo il Tour de France. E questo ragazzo con la faccia pulita diventa uno dei miei eroi e mi affeziono ancora di più a lui quando sul suo destino, nel suo destino irrompe una macchina da guerra, un belga fortissimo, il più forte del mondo di sempre, lo chiamano il cannibale. Lui, mio eroe, riesce a batterlo qualche volta ma soprattutto riesce a vincere prima dell'arrivo del cannibale e dopo, quando la carriera di questo belga si chiamava Merckx, comincia a declinare. E tra le tante cose, questo mio eroe mi insegna che nella vita puoi anche dare tutto anche quando sai che potresti non vincere, perché tu sei il giudice di te stesso e il fatto di avere dato tutto nella vita è la cosa più importante. Il mio eroe si chiamava Felice Gimonti. Grazie. 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 in mezzo a noi ancora non lo so ma dietro alla tua ruota io ci sarò cento e più chilometri alle spalle c'è un po' da fare più sicuro non ci sarà più qualcuno di noi devi dare tutto prima che ti faccia passare io non ti lascio andare non ti vuol dare sai chi ci sarò ci volano mica i tuoi destini calci nel sole la roccia prende il tempo il tempo parte per noi